Nella mia mano destra ho un padellone Android, uno Xiaomi Redmi Note 9 Pro Nella mia mano sinistra ho il mio iPhone SE di prima generazione che utilizzo a base quotidiana Vediamo con questi due iPhone oggi dove voglio arrivare Bella a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati qui sul canale di Pringiluca Prima di cominciare, come al solito vi ricordo che se non l'avete ancora fatto Dovete assolutamente iscrivervi al canale, attivare la campanellina e lasciare un bel like qui sotto Inoltre vi do un consiglio, date un occhio a tutti quelli che sono i link che trovate qui sotto in descrizione Perché potrebbero esserci delle cose interessanti per voi Detto questo direi di non perderci un ulteriore chiacchiere e di partire e cominciare a parlare di quelli che sono questi due device che ho davanti a me Ho acquistato questo smartphone Android, questo Xiaomi Redmi Note 9 Pro da qualche giorno, settimana scorsa insomma Un device veramente molto molto bello sotto il punto di vista del design Ma non so qui a parlarvene perché l'avete visto sicuramente nel mio scorso video che vi lascio inoltre linkato qui in alto nelle schede Ed è, come vi dicevo, un device che mi sta colpendo veramente tanto sotto il punto di vista del design Oltretutto, killer feature, uno schermo così grande, è veramente una cosa che vi darà la possibilità di eliminare, di rimuovere tutti quelli che sono i tablet e tutto il resto Perché con un singolo device riuscirete sicuramente a fare entrambe le cose Ma, detto questo, vediamo un attimino con questo smartphone tra le mani dove effettivamente voglio andare a parare oggi Sono ormai due anni che posseggo iPhone, o meglio, questo iPhone come device principale che lo utilizzo praticamente a base quotidiana per tutte le funzionalità generiche Ma, insomma, l'avete visto sicuramente negli scorsi video In ogni caso, beh, ci sono state delle piccole interruzioni durante questi due anni Nelle quali ho provato vari smartphone di altre categorie, Android e tutto il resto Ma nessuna di quelli, o meglio, nessuno di quei device era riuscito a rimuovere il carrellino della SIM dal mio iPhone principale che utilizzavo comunque a base quotidiana E quindi mi sono detto, riuscirà uno smartphone Android da 200€, uno Xiaomi Redmi Note 9 Pro a sostituire il mio iPhone? Beh, questo lo scopriremo in un mese di prova che gli sto dando a questo device E adesso vi spiego il perché Come voi sapete, io sono particolarmente affezionato al design di iPhone SE di prima generazione Perché, beh, è veramente stupendo Con questi bordi squadrati mi dà la possibilità di essere super comodo e soprattutto super trasportabile Perché ha un design veramente compattissimo Nonostante lo schermo sia estremamente piccolo, beh, su questo punto di vista non ho mai sentito particolari mancanze Anche perché io durante tutte le azioni quotidiane sfrutto il mio computer fisso Che è proprio qui alla mia sinistra e che praticamente faccio tutto il mio lavoro quotidiano Ma mi son detto, beh, sono due anni che non do la possibilità ad Android di entrare all'interno del mio mondo E quindi ho deciso di prendere questo smartphone proprio per fare questa tipologia di prove Inoltre dovrò fare anche altre tipologie di video come ad esempio Top Giochi, Top Applicazioni e altre cose del genere Ma in ogni caso non è questo il video in cui voglio parlarvene Perché voglio spiegarvi il motivo del perché ho deciso di prendere questo smartphone E il motivo del perché ho deciso di passare ad Android per un mese Questo smartphone, nulla in particolare, ho scelto lui perché mi sembrava il best buy di quest'anno Beh, ritengo che un prezzo così adeguato per un device molto molto grande Padellone direi veramente gigante Ma con delle caratteristiche hardware veramente impeccabili Sia stato un device super azzeccato per quello che effettivamente volevo portare qui sul canale E adesso vi spiego il perché voglio passare ad Android Beh, come voi sapete io sono particolarmente affezionato alla USB Type-C E ultimamente sentivo un po' la mancanza di avere un device che mi desse la possibilità in esterna di gestire i miei file Ma non parlo di un device che mi desse la possibilità di montare video o altre cose del genere Perché per quello, come ripeto, io utilizzo il mio computer fisso Ma di un device che mi desse la possibilità di gestire mail, di gestire i social In maniera più efficiente, con uno schermo leggermente più grande E che mi desse la possibilità di gestirli al meglio E quindi mi sono detto, anzi mi ero detto Prendiamo un device con il quale posso tranquillamente gestire i miei file in esterna Gestire i miei social in esterna tramite hotspot del mio iPhone E beh, mi è venuta questa idea geniale Usiamo solo Android per un mese È vero, dovrei rimuovere il mio Apple Watch Dovrei rimuovere tutto quello che è il mio ecosistema Ma ho deciso comunque di dargli una possibilità Perché non si sa mai Android è in continua evoluzione da tantissimo tempo E sicuramente un device molto molto bello come questo in questione Potrebbe fare sicuramente la differenza Anche perché 6 GB di RAM, 128 GB di storage interno Mi darà la possibilità sicuramente di gestire al meglio tutti quelli che sono i miei contenuti Dovrò abbandonare tutto l'ecosistema Apple E parlo di Apple Watch, iPhone, Mac O meglio, non abbandonerò Mac Perché comunque è il dispositivo con il quale monto i video ogni giorno Ma sicuramente l'ecosistema andrà leggermente a distruggersi per questo mese E quindi ho deciso di... Farci un video perché per me è veramente una catastrofe E quindi nulla ragazzi È ora di fare il passaggio Quindi prendo il carrellino della SIM dallo scatolo dello Xiaomi Eccolo qui Riesco tranquillamente a rimuoverlo Oltretutto qui dentro c'è la cover che non ho effettivamente ancora utilizzato E prendo subito la spilletta Eccola qui Ok, ci siamo Rimuovo il carrellino della SIM Uh, oltretutto è dual SIM questo smartphone Rimuovo il carrellino da qui Aia Mi fa male abbandonare il mio iPhone, eh Ve lo dico Fa veramente male Vediamo qual è il carrellino della SIM numero 1 Eccolo qui Ok Ci siamo, eh ragazzi Ci siamo È arrivato quel momento Sto inserendo il carrellino all'interno dello smartphone Ed eccolo qui Carrellino inserito Andiamo a vedere subito se ci riconosce la SIM Eh sì SIM riconosciuta E quindi ragazzi siamo effettivamente pronti e ready su un device Android Ve ne parlerò, ve ne parlerò sicuramente sul mio canale Instagram Sulla mia pagina Instagram E sicuramente vedrete altri video qui sul mio canale YouTube Riguardante questo smartphone E soprattutto l'abbandono ad iOS Quindi ragazzi Se non l'avete ancora fatto Vi invito ad iscrivervi al canale Io sono effettivamente un androideano in questo momento E la cosa Mi piace Anche se Mi manca un po' l'Apple Watch Mi manca un po' tutto Apple Watch comunque lo utilizzerò come device Per tenere traccia di tutti quelli che sono le mie attività Ma in ogni caso Al momento sono un androidiano Se proprio così vogliamo dirlo E Sono anche un po' preoccupato Bene ragazzi Spero che il video vi sia piaciuto Vi raccomando se così è stato Lasciate like Iscrivetevi al canale E attivate la campanellina Fatemi sapere qui sotto nei commenti Voi cosa ne pensate Voi cosa utilizzate Se è Android O d'iPhone In ogni caso Vedrete altri video Su questo device Soprattutto per quanto riguarda Top giochi Top applicazioni Personalizzazioni E altre cose del genere Detto questo Spero che il video vi sia piaciuto Noi ci vediamo alla prossima Sempre qui Su Pringiluca Soprattutto per quanto riguarda Soprattutto per quanto riguarda L'ho Tornizzazione E delle cose del genere Grazie a tutti.